Scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati ad Alessandria d'Egitto nel corso di una mobilitazione contro una nuova norma intesa a limitare i raduni di protesta. Alcuni giovani manifestanti hanno gettato pietre contro gli agenti in assetto antisommossa che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. La protesta si inserisce in un contesto già teso a causa delle critiche alimentate dalla bozza di Costituzione appena approvata da un comitato di saggi che sarà sottoposta al referendum a gennaio. Secondo le associazioni per i diritti umani la carta attribuisce un potere troppo esteso sia all'esercito che al presidente. Oltre a scontentare i militanti dei fratelli musulmani il divieto contro le proteste non autorizzate ha portato in piazza anche gli attivisti laici.